La sinistra non può che ripartire dalla centralità del diritto al lavoro e del lavoro come diritto, del lavoro che non può essere precarietà, merce povera, solitudine. Il lavoro significa libertà, reddito. La sinistra non può che ripartire dalla difesa dei beni comuni, il territorio, la natura, l'ambiente, la cultura, l'acqua, contro processi di privatizzazione selvaggia. La sinistra non può che ripartire dai diritti fondamentali delle persone, il diritto alla cittadinanza per chiunque nasca in Italia, il diritto per le coppie gay a poter regolare la loro vita e avere un riconoscimento giuridico, il diritto di avere diritti di tanti soggetti che oggi in tempi di crisi sono particolarmente vulnerabili perché non hanno diritti. Questo è la sinistra. Non è sinistra compromettersi con Berlusconi, è il rischio della resa e del suicidio nei confronti di chi ha fatto carta straccia dei principi della nostra Costituzione e non c'è riforma costituzionale che noi potremo mai accettare se essa come obiettivo lo stravolgimento di quei principi fondamentali che fanno della nostra carta una delle più belle del mondo.